Sette anni fa ha fatto la valigia per inseguire il sogno americano, oggi quella stessa valigia è diventata il suo personalissimo marchio. Lei è Angela Rapino, originaria di Francavilla al Mare, sposata con un pescarese, mamma di un bimbo di tre anni. È blogger ed influencer attraverso la pagina social La Valigia Stelle Strisce di Angie, su Facebook e su Instagram, che sta avendo un enorme successo. Un contenitore dove Angela racconta la vita di una famiglia italiana, oramai naturalizzata in America, tra consigli e suggerimenti per vivere al meglio l'esperienza negli States e che le ha fatto guadagnare anche la partecipazione a Little Big Italy, programma televisivo sulla 9. Ciao Abruzzo, sono Angela, vengo da Francavilla al Mare e vivo in America da sette anni. Da circa due anni ho creato la mia pagina, La Valigia Stelle Strisce, dove ogni giorno racconto della mia vita americana. L'obiettivo della mia pagina è creare un filo diretto tra Italia ed America, dove ogni giorno avrete la possibilità di vedere quella che è la mia vita a stelle strisce. Di entrare a stretto contatto degli usi e costumi di questa nazione, senza però mai dimenticare quelle che sono le mie origini. E con grande onore ho partecipato al programma Little Big Italy in onda su 9 di Francesco Panella. E' stato bellissimo entrare in tv per la prima volta. Che dite? Ci riproviamo? Seguitemi! Ciao!